Madonna ragazzi che fatica con sto zainone enorme Sì, come è pesa? Invece lo zainetto piccolo, questo si chiama cavalleria Qui c'è un sospetto animale che si muove in modo furtivo tra i boschi Vi presento il vero Salvan Io ho detto a Nicole più legna raccogli più sarà al caldo stanotte Minchia non si è più fermata, è partita, ha iniziato a disboscare tutto il lago Rai Grazie a tutti 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 e adesso il papi ci fa la colazione il suo papi fa il fetterello abbiamo riacceso il fuoco per la colazione buongiorno ore 8 e mezza lago ghiacciato ho da un'idea stanotte di che temperature ha fatto ciao 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 ciao